C'erano magazzini, appartamenti, esercizi commerciali che erano stati trasformati a Palermo da tre gruppi criminali mafiosi in basi operative, nelle quali, con veri e propri summit, venivano decise le strategie dell'organizzazione nello spaccio di droga al dettaglio. Gli immobili venivano impiegati anche come depositi per lo stoccaggio e la lavorazione degli stupefacenti, c'era perfino una macelleria i cui macchinari venivano utilizzati quotidianamente non solo per lavorare la carne, ma anche per smistare grosse quantità di droga. Stanotte il blitz dei carabinieri di Palermo, che coordinati dalla procura e dalla direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito 31 provvedimenti cautelari, di cui 8 in carcere e 23 agli arresti domiciliari. Le tre associazioni criminali erano strettamente legati da rapporti di fornitura e collaborazione al fine di assicurare l'approvvigionamento di droga anche nei momenti di maggiore difficoltà. Secondo i carabinieri, si sarebbero riforniti nel quartiere Ballarò per poi smerciare le sostanze stupefacenti, principalmente nelle zone di Partanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo, con ramificazioni anche nei quartieri più centrali della città. Un giro d'affari stimato in 500 mila euro all'anno, 12 chili di droga sequestrati nell'ultimo blitz, fondamentali in questi mesi, hanno sottolineato i carabinieri, le sinergie tra le singole stazioni e i comandi provinciali. Che hanno consentito solo negli ultimi 35 giorni di eseguire 112 provvedimenti cautelari, arrestare in flagranza di reato 62 persone nei precedenti mesi, sequestrare oltre 15 chili di sostanze stupefacenti e fermare un giro d'affari di 3 milioni di euro su base anno. Per tutti le accuse sono le associazioni a delinquere finalizzate allo spaccio. Tra le 112 persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare, quasi la metà 60 percepivano indebitamente anche il reddito di cittadinanza. Altri 103 soggetti sono stati segnalati alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.